Esiste una parola così piccola, così potente, che usiamo in ogni momento della nostra vita per capire il mondo. Perché è la sua? Perché è la giù? Perché è così grande? Perché è così piccolo? Perché hanno tutta questa fretta? Perché non ce l'hanno? Una parola così semplice che apre tante porte. Tutto merita un perché. Il mondo è un magnifico enigma. Bello, crudele, spaventoso ed emozionante. Perché? Se non te lo chiedi, non lo saprai mai. Live Curious